benvenuti nel corso di influencer marketing io sono Sonia Fasulo social media manager scrittrice ed influencer in questo corso vi insegneremo ad utilizzare tutti gli elementi per diventare influencer o adattarli alle vostre aziende ma chi è rivolto questo corso a tutti coloro che vogliono sfruttare la loro immagine facendo personal branding e quindi agli influencer e alle aziende o agli imprenditori che vogliono sfruttare questo grande alleato del marketing studieremo la storia degli influencer dei primi passi ai giorni nostri i processi del mercato i piani personali i piani editoriali e aziendali ma studieremo anche la pratica con esercizi mirati casi studio adattati al territorio locale e a quello nazionale impareremo ad usare gli strumenti giusti per farvi notare o per saper scegliere quali sono i passi giusti da adottare per la vostra azienda cegni storici evoluzione e contemporaneità per portarvi ad avere un quadro chiaro e delineato del marketing e se si parla di marketing non possiamo che imparare ad analizzare e verificare le giuste strategie da adottare per raggiungere i propri obiettivi sia personali che dell'azienda stessa fare influencer marketing vuol dire conoscere cosa significa marketing e come farlo nel modo giusto attraverso se stessi con il proprio volto la propria immagine per gli altri per le aziende o per il brand e quindi attraverso gli imprenditori teoria e pratica per portarvi nella realtà dell'influencer marketing per non incorrere nell'errore di affiancare o affidare il brand in mani sbagliate o per non raggiungere gli obiettivi personali sognati personal brand di story social real adb e posizionamenti ideali per imparare a farsi riconoscere a farsi notare emulare dai grandi ma senza copiare analizzare capire e studiare tutto per se stessi per fare gli influencer o per il brand aziendale per i clienti scopriremo tutti i segreti degli influencer quelli nazionali o esteri studieremo i grandi brand in un unico corso imparando a leggere i risultati l'inside delle statistiche creeremo un vero progetto ad hoc per ognuno di voi creeremo quello che sarà la vostra presenza digitale questo è il costo giusto per diventare influencer per fare il vero influencer marketing io vi aspetto in aula iniziamo a delineare la vostra presenza digitale e iniziamo a fare il vero influencer marketing